Ricatti elettorali lo scorso giugno, sia nella prima tornata elettorale che durante il periodo del balottaggio tra l'attuale sindaca Angela Carluccio e l'allora candidato alla poltrona di primo cittadino Nando Marino. L'indagine multiservizi condotta dalla Digos di Brindisi è stata prorogata secondo indiscrezioni proprio in riferimento a questi fatti e ha portato alla notifica degli avvisi di garanzia all'ex assessore all'urbanistica Pasquale Luperti, oggi capogruppo dei coerenti, e a cinque dipendenti della partecipata Daniele Pietanza, responsabile della gestione del personale della multiservizi e che in quei giorni subì anche un'aggressione denunciata alla Digos. Avvisi anche per i dipendenti Carlo Zuccaro e Nicola Iacobazzi, oltre all'imprenditore Antonio Sirio, quest'ultimo cognato di Pietanza. Gli indagati sarebbero accusati di estorsione, reato che si sarebbe consumato al momento del pagamento degli stipendi, e peculato, reato legato all'utilizzo dei mezzi della società e sulla fatturazione per alcuni lavori svolti dalla multiservizi. Un fascicolo enorme è quello relativo alle indagini sulla partecipata con documenti recuperati dalla Digos direttamente negli uffici dell'azienda fino alla settimana scorsa, su richiesta del pubblico ministero titolare dell'indagine Giuseppe De Nozza. Ora gli indagati, avvisati, assistiti da loro legali che dovranno nominare a breve, avranno la facoltà di chiedere di essere ascoltati o presentare memorie per la propria difesa.